Ed eccoci qui direttamente dal Nautilus per noi e per voi soprattutto la bellissima Miss Trav 2022 Jane. Allora Jane grazie per essere con noi intanto, come stai? Grazie Lucrezia, grazie alla casa Nautilus, grazie a Sebil Garcia, Sandra Show, Luca proprietario, sto bene grazie, molto 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 felice. Sei stata richiesta questa sera per il compleanno della nostra Sebil, quindi hai presenziato a questi festeggiamenti, com'è andata la serata? Guarda la serata è andata stupendamente bellissima, ogni anno meglio, veramente, sono felice, sono contenta e Sebil Garcia ti vuole bene. Un augurio per la nostra Sebil prima di salutarci? Ma certo, Sebil, guarda, ti auguro tante gioie, tante cose belle e tante, tante, tante storie da fare. Auguro ogni, con tutto il cuore che ho per voi, per te, per la casa, per Travacompany, per tutti. Grazie Jane per le belle parole, ci vediamo alla prossima.